dottore si c'è un paziente che sta aspettando da un po di tempo un attimo e veniamo a noi il solito vizio dei pazienti ma perché vi dovete ridurre sempre all'ultimo momento vabbè vediamo che cosa riusciamo a fare già ho capito tutto problemi respiratori dolori nelle ossa brividi articolazioni dolenti vabbè lo sappiamo sensazione di vuoto la testa avanti un altro